In vista della Serie D, lo stadio Pedroni si rifà in look. Alcuni interventi sono necessari per adempiere alle normative della Lega Nazionale Direttanti, altri invece sono voluti per dare un'immagine più fresca e moderna alla struttura. In particolare saranno realizzati uno spogliatoio arbitro donna di misura non inferiore a 10 metri quadrati, attrezzato e dotato di doccia e servizio igienico, un box per lo speaker, una sala medica attrezzata, sempre di 10 metri quadri ed il settore ospiti. Quest'ultimo dovrà avere accesso autonomo con percorso separato sino alla postazione. Il settore dovrà essere separato da pannelli in rete fisse omologata. Di altezza non inferiore ai 2 metri e mezzo dovrà essere realizzato un nuovo cancello a doppianta sulla rete del campo da gioco in prossimità del settore per eventuale evacuazione di emergenza verso il terreno. La separazione verrà realizzata sul lato ovest in prossimità della palestra a partire dall'angolo del campo di gioco sino al recinto muralio in prossimità dei pini. Di fatto in prosecuzione lineare del lato lungo. Sul lato gradinata la separazione avverrà sull'allineamento della parete del servizio igienico, il quale per regolamento deve essere garantito agli ospiti. La gradinata viene confermata nella sua interezza. La copertura delle torrette è invece da sempre inibita al pubblico ed inagibile a causa della insufficienza strutturale. Si sta valutando infine la possibilità di installare una tribunetta agli elementi prefabbricati componibili dietro la curva. In questo caso sarebbe proprio questo il settore ospiti. Queste le parole del presidente Elio del Monaco. Gli interventi non modificano in alcun modo l'area utilizzata dal tifo organizzato del Verbagna Calcio, di cui dunque non comprendiamo la genesi delle polemiche dei giorni scorsi. Vorrei invece ringraziare così il presidente e l'amministrazione comunale per la vicinanza e la fattiva collaborazione ancora una volta dimostrata nei nostri confronti.